Prima si fissava l'appuntamento telefonicamente, poi la droga veniva consegnata a domicilio. E' così che sull'isola di Ischia veniva portato avanti lo spaccio di cocaina, ascisce e marioana. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Ischia hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misure cautelari. Custodia in carcere per un 24enne di forio e di vieto di dimora nei comuni ischitani per due 24enni di forio e di Ischia. Sono gravemente indiziati dei reati di spaccio e detenzione di cocaina, ascisce e marioana, nonché di tentate estorsione, rapine e lesioni personali aggravate. Oltre allo spaccio infatti le investigazioni hanno anche consentito di ricostruire dei tentativi estorsivi nei confronti di alcuni consumatori di droga. Sono stati infatti minacciati con coltelli per pagare i debiti derivanti dagli acquisti della droga. E non solo, le indagini hanno consentito anche di ricostruire una rapina avvenuta a Forio lo scorso maggio da parte di una persona che dopo un incidente stradale ha aggredito con calci e pugni la controparte provocandone una frattura per impossessarsi e distruggere il cellulare con cui erano stati ripresi gli attimi immediatamente successivi all'incidente. Aniello Gaglione, invece, 34 anni, utilizzava formule chimiche per definire le dosi di sostanza stupefacente. Più semplicemente, cocaina rosa, una sostanza sintetica che genera effetti psichedelici, visioni e distorsioni della realtà che richiamano i colori accesi dei cartoni animati. Una droga per sballarsi, pericolosa ma soprattutto costosa, 400 euro a dose e più della cocaina, al punto da essere definita la droga dell'alta società. E proprio nell'alta società di Torre del Greco e dintorni si sarebbe mosso il 34enne, scoperto dai carabinieri della locale stazione con quattro dosi già confezionate ermeticamente nascoste negli slip. E non solo, quando i militari dell'arma lo hanno perquisito, è venuto fuori un vero e proprio shop dello stupefacente. Due dosi di marijuana e due di cocaina, un grinder e un tira cocaina. Nella sua abitazione trovati altra cocaina, marijuana e materiale vario per il confezionamento. Gaglione ora è domiciliare in attesa di essere ascoltato dal giudice. Dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio.